Noi abbiamo perso nella partita in cui probabilmente abbiamo concesso pochissimo all'avversario, abbiamo concesso un'occasione e mezza, in una di queste abbiamo preso gol, poi abbiamo provato in tutti i modi a recuperare questa partita, ma addirittura nel momento in cui avevamo preso il gol qualche attimo prima avevamo sbagliato un'occasione limpidissima davanti al portiere, però il calcio è anche questo, prima o dopo doveva succedere in questo campionato essere sconfitti qua al Celeste, la analizzeremo con calma, vedremo dove probabilmente potevamo fare qualcosina di meglio, però io non ho assolutamente niente da rinpoerare a questi ragazzi, hanno dato l'anima, hanno sempre tenuto il pallino del gioco, costruendo tantissime occasioni da rete, senza concedere anche contropiedi pericolosi, perché sapevamo che il Ribera era un'ottima squadra, sapevamo non a caso che era la seconda migliore difesa del campionato, una squadra che sicuramente non sono un caso i risultati fin qua ottenuti, però io, malgrado la sconfitta, ci tengo a sottolineare la prestazione di questi ragazzi. Nel primo tempo il Ribera in alcuni tratti è apparso più determinato, più aggressivo, probabilmente è stato anche graziato all'arbitraggio che poi invece è un po' cambiato nella ripresa, almeno questa è la nostra impressione. No, non voglio parlare dell'arbitraggio, non merita nemmeno il commento. Per la prima volta in stagione perdete contatto alle prime tre della graduatoria, questo cambia qualcosa, potrebbe influenzarvi, almeno psicologicamente, anche se gli obiettivi probabilmente non erano quelli di restare stabilmente attaccati e avevate fatto qualcosa in più in precedenza. No, noi l'obiettivo di questo campionato era quello di cercare di trarre sempre il massimo da ogni partita, non c'era un obiettivo preciso, se non quello di fare sempre bene settimana per settimana, non cambia assolutamente niente, prima dell'appuntamento con la società ci rimangono queste tre trasferte consecutive di Coppa e di campionato, poi ci riuniamo, facciamo un po' il punto della situazione e poi si vede, ma assolutamente gli obiettivi non cambiano. Siete rimasti a secco per la prima volta? Grazie 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 Grazie